Ehi, salute! Di solito non dico queste cose, ma voi siete il più bel trio di gigantesse sulle quali abbia mai posato il mio sguardo assatanato. Secondo me la parte più erotica di una donna sono le bocci... Aiuto, Frank! Che sta succedendo? Oh, guarda qua! Nessuna traccia di Lela, eh? Ancora no, ma come te lo spieghi questo fermaglio? No, non lo so. Sicuramente ha qualcosa a che fare con questa! Oh, mia divinità a piacere! Dei, muoversi, forza! Ok, ecco il piano! Questo non è un piano, è un quarto piano! Donne liberate, ma uomini ingatenati! Porteremo il nostro capo, lei sa cosa fare con loro! Avete una donna a Bergamo? Frai, stai zitto! Sì, capitano! Questa qui, capitale di pianeta Amazzonia! Scusa, che fine hanno fatto gli uomini? Uomini estinti da parecchio! Con tutte queste donne in giro saranno morti per i cazziattoni, siete d'accordo ragazzi? Questo è stadio, dove giocare le nostre squadre di basket! Poche schiacciate, ma tanti fondamentali! Più divertente guardare! E che risulta mi fate morire, va? Mi fate morire! Muoio! Questo è club risata, umorismo divertente e in modo diverso! Non fa leva su soliti stereotipi! Comicità avviene da personaggio, situazioni vere, no da corbellerie astratte! Reduzione! Che palle! Buona cosa! Questo pianeta abitato da sole donne mi sembra perfetto! Io sto cercando un appartamento!